Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Giovanni il Battista, chiamati a sé due dei suoi discepoli, mandò a dire al Signore Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui quegli uomini dissero Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, dai spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi Poi diede loro questa risposta Andate e riferite a Giovanni, ciò che avete visto e udito I ciechi acquistano la vista, gli zoppi camminano I lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano Ai poveri è annunciata la buona notizia E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo Gesù si manifesta, comincia a compiere determinate cose E questo suscita delle domande Anche Giovanni il Battista dice E manda a dire a Gesù Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro? Anche lui ha delle aspettative su Gesù E Gesù non dà una risposta immediata Ma dice parte dalla vita Per far capire che sono le cose Sono le opere, sono la vita Che dimostrano ciò che siamo realmente Quello che lui compie E ciò che dice veramente la sua identità Cosa sta facendo per ogni uomo, per ogni donna E anche noi forse per poter Perché il Signore arrivi nella mia vita Nella tua vita dobbiamo essere disposti Ad abbandonare i nostri schemi Le nostre aspettative Come noi vorremmo che fosse Ma lasciare che sia lui Certo perché Dio verrà sempre Arriverà sempre nella nostra vita In maniera diversa rispetto a come noi lo attendiamo Dio tocca sempre la nostra vita In maniera sorprendente Quindi dobbiamo essere anche disposti A lasciarci sorprendere da Dio La sorpresa di Dio Che sia lui il punto di riferimento Fissare lo sguardo su di lui E che sia lui a dirci E in ogni caso comunque È ciò che lui compie La risposta alle nostre domande Lui dà una risposta Andate e riferite a Giovanni Ed è quello che abbiamo sentito In questa lettura del Vangelo Una serie di opere di guarigione E guarigione vuol dire che trasforma una situazione di vita Che una persona sta vivendo Quindi per dirci che il Vangelo È un'opera di trasformazione Cioè vuol dire che Gesù venendo Raggiungendo la nostra vita La nostra storia Darà a tutti la possibilità di cambiare Ci annuncia il Vangelo Che è buona notizia Ogni uomo Ogni donna Può cambiare La soluzione che lui porta È proprio la nostra guarigione profonda Perché in tutti noi c'è una povertà profonda In tutti noi c'è una morte che ci riguarda Dalla quale siamo chiamati a risorgere E fare un salto di qualità importante Ed è a questo che il Signore ci chiama E raggiunge la nostra vita Proprio per questo Per sorprenderci E darci la possibilità di cambiare Siano dato Gesù Cristo Siano dato Gesù Cristo